Su, buono, buono. Bebra, eh? Ma si chiama Tamerlano, quel cosetto? Questo cosetto sarebbe capace di sbranarvi per il vostro istinto sanguinario. E perché avrei un istinto sanguinario io? Come potete privare della vita questi poveri piccoli uccelletti, così inoffensivi, così dolci e così buoni? Ah, sì, buoni, specialmente allo spiedo. Che nobili sentimenti. Ma se vi sentite tanto cacciatore, perché non andate a sparare ai leoni? E come farei ad andare in giro con un grappolo di leoni appesa alla cinta? È orribile uccidere gli animali. E non capisco proprio come certa gente ci riesca. Andiamo, Tamerlano. No, un momento, un momento, signorina. Vi posso giurare che io non ammazzo nessun animale. Se fosse per me, il mondo sarebbe ancora come il primo giorno del creato. E quelli sarebbero morti di infarto? Beh, no, impallinati purtroppo, ma non dal mio fucile. Li ho comprati cinque minuti fa da un cacciatore per fare bella figura con gli amici giù in paese. Io adoro gli uccellini, sono miei colleghi. Perché? Volate anche voi? No, colleghi canori. Io sono un cantante e lavoro all'Apollo 13 giù a Borgolaro Terme. Mi chiamo Renato. Renato Raimondi. Barbara Parker. Ah, inglese? Per metà. Mia madre è italiana. Sono in vacanza presso mia zia, Lady Hamilton, la padrona del castello di Valverde. Eccolo lassù. Ehi, un castello da favola. Voi siete la bella reggidita che lo abita. Potrei fare da principe azzurro. Chissà, se mi trovate addormentata nel bosco. Chissà, se mi trovate addormentata nel bosco.